O Dio quanta roba c'ha questo O Dio Spirito nanico, ingredienti alchemici. Spirito nanico, cosa ti faccio? Spirito nanico, che ci faccio. ok abbiamo anche una pozione queste pozioni se non sbaglio questa cosa è durata effetto potenza d'attacco queste pozioni se non sbaglio ogni volta che medito me le rifa in automatico ok o che 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 cos'è che che Oh no! Stanno andando a fuoco una capanna! Che cazzo è successo? Come on! Che cazzo è a cura! Non so da lontano, non so? Un po' a presto! 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 Oswe, dove è Oswe? E' nessuno che ha visto? Credo che ho visto in stabile. Cosa? Il fogo? Non c'è nessuno che puoi dare? Non è così semplice. La maggior parte è scoperta. Il baron si fa in una scuola, non ha preso. Il mio frate è in stabile. Abbiamo bisogno di salvare, lui e i bambini. Vediamo cosa posso fare. Corri ora, rapido! Ok, ecco, ecco. Non è così. Non è così. Non è così. Probabilmente si è sopravvissato nell'interno. Necesitiamo un altro modo in. Scusami ci stava una parte dove si può andare Non si può entrare da qua ma da qua si Non si può entrare da qua C'era un posto dove potevo fare un buco nel muro Non si può entrare da qua Non si può entrare da qua Scusami allora mannaccia il cazzo Apri la porta Mannaccia il cazzo Voi e le vostre cose di merda come le fate Mannaccia voi sali qua sopra Ma non stava scritto apri prima sono venuto due volte qua davanti Ha 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 We've a hero in our midst You've earned yourself a barrel of lirian I know your wife miscarried Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool You'd been beating them for years Finally they'd had enough and fled Sound about right? They ran from the foot They ran from the foot, didn't they? You ain't sick Bye bye We need to talk E vai Vai bello minare la gente a pugni Sit down You beat them I never laid a finger on Tamara Not once And on Anna That's another story She always knew how to spark my eye Sapeva sempre come scatenare la mia ira Sapevi che erano scappate Ma Ma Perché non me l'hai detto Mi hai fatto perdere tempo Sapevi sette Sapevi sette Sapevi problemi Riusci a controllare la mia moglie E la mia figlia Mi avessi preso per un povero coglione What kind of flaccid prick Would you take me for? Gotta admit I do think you're a prick Not because you couldn't control them But because you drove them away What? Don't play the idiot You gave them no choice Anna And I It wasn't as it seemed Seems All right Come ho detto Dimmi cosa è successo Questa volta la verità Erano tre giorni che bevevo come una spugna Anna è venuta a me a dirmi Che se ne andavano Le ho pregate di restare Lei si è rifiutato di ascoltarmi Ho provato a fermarla E lei si rimanava come una guida L'abbiamo lottato È caduta E l'ultima domanda cosa che ricordo Mi sono risvegliato il mattino Con i pantaloni bagnati Con un grosso garnoccolo in testa Purtroppo erano sparite Cosa si vuole a Witcher? No come cazzo dovrebbe essere Ammi a stare qui Niente Niente Soltanto la bottiglia E poi cosa è successo Poi è solo peggiorato Mi sono risvegliato al tramonto Senza sapere quanti giorni erano passati Penso che fosse tutto un frutto di incubo Da un'obbligatura Poi sono andato in camera da letto E Anna non c'era C'era sangue ovunque Ho capito Aveva subito Un aborto Con il fiato corto e la gola secca Mi sono avvicinato al letto E l'ho vista Io c'era lì Una cosettina in difesa Solo il lenzone insaminato E' morta Ed era colpa mia Mierda До E' morta E' il mio штurio Inclinato E' настrauto Però l'ho portata fuori L'ho portata fuori Era arribile. Volevo solo che finisse. Quella bambina era il mio sogno. L'avevo detto ad Anna, una piccolina, la nostra piccolina per sistemare le cose. Ma è morta prima di nascere. Ma è morta prima di nascere. Entendete? Il mio figlio è morto. Prendeteci a te. Mere come te, quando si rompono, sembra davvero pazzeschi. Tu sei un peccato bambino. Eh, mutazioni funzionavano. Ma questa è la buona notizia. Tu sei morto bambino potrebbe aiutare a trovare l'unica che è ancora vivo. E la tua figlia. Che? Come? Cosa? Cosa c'è? Cosa c'è un peccato bambino. Se non c'è un peccato bambino, diventano le cose. È un peccato... Che? Un peccato bambino a città, che fanno le cose. Un peccato per perdere la fortuna. Un peccato che muove la fortuna e la fortuna. Un peccato che vengono a trovare le persone. Un peccato che diventano abbastanza forti. Attacca anche il peccato. Ma come? Come lo sai? I peccati di sangue... Sono un peccato forte. Un peccato che voglio usare per trovare la tua famiglia. Come? Uno di due modo. Legende chiedono che puoi pagare una giovane sotto la famiglia. Un spirito guardiano che potrebbe condorsi a me e l'altra via possiamo ucciderli e prendere il suo sangue, portarlo lo sciamano e lasciare che gli faccia il resto. Non uccideremo il bambino, ha già sofferto abbastanza, spezza la malizia affinché possa finalmente riposare in pace. Se riusciremo a trasformare il bambino in lui possono usarla per essere il perlino a noi, sarà utile comunque. Prima risolviamo questa faccenda è meglio farlo di notte. Aspetta qui con me, verso mezzanotte ti porterò dopo il sorpellito. Si, tocca fare sempre tutto a lui, si, rifondire la visione proprio questa notte dovranno restare in casa e cerca di smaltire la sborne. Prendo una pala per scavare la tomba, prendila ti servirà ma non per quello. Alcune ore dopo. Andiamo barone, allora prima di tutto che cosa... cosa erano tipo di adaxi? Ok, giusto. Giusto. Non sa che non mi ricordo. Eh, grassario, bestiario... Ok, si, adaxi. No, 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 non sono. No, 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 non ci sono. Le nomi sono potenti potenti riuscire. No, no, non c'è la giusta. No, non c'è la giusta. Non c'è la giusta. Non c'è la giusta. è smossa e vuota che cosa significa che il botchling è a caccio ma quanto è brutto porca puttana ciao deregarden come va? si fa la best quest del gioco e niente perchè la best la best quest del gioco e niente si fa la best quest del gioco e niente si fa la best quest del gioco e niente iscriviti al gioco e niente Grazie a tutti. Oh, fu particolarmente apprezzato all'epoca. È la sua prima partita, sì, è la prima volta che gioca The Witcher. Noi, niente, aspetta te, te l'ho detto, devi separare sotto l'uscio di casa che sei venuto giù. Le gente sono vera e entro domani. Da quel momento vederà sulla tua casa e mi aiuterà a trovare la tua famiglia. E niente. L'avete rotto il cazzo. Voi e sti fantasmi della merda. Grazie. Voi sti break. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora pensaci è importante. E' una bambina, come avrebbe chiamata. Anche se pensi del controllo, anche i, come si chiama, i Vrate dovrei utilizzare la spada d'argento e non questa qua d'acciaio, sai? Ho questa sensazione. Chiamare il pupo, abortito. Non è niente. 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 E... Sargo male. Non è niente. Sgoto va. E ti arrebbero con la mia figlia. Bene, ora se pulisci il corpo Il sorriso è tutto suo padre Effettivamente Tra un giorno Dea dovrebbe trasformarsi in un lubricant Io resterò qui ad aspettare Tu torni a casa Non se ne parla Ma è mia figlia E la colpa del responsabile Tutto questo è soltanto mia Il tempo dell'istinto potere È passato E il tempo inoltre non puoi fare altro qui Non ci sono mai Questo è soltanto la guarda Witcher Dovrò attendere un giorno e una notte Fino a quanto del budgeting Non si trasforma in lubricant È tutto Siete di aspetto Io ti imploro Ti imploro con il tuo nome Ascolto il mio richiamo Ed è stata idea Vedimi al corpo che sono legati da te Ma la gente non si chiede che sta vedendo un Un qualcosa Che vola Che vola ti seguo al piedi che è più facile io trovavo una spada d'argento migliore non c'è più facile C'è un po' che c'è l'acqua. C'è un po' che c'è l'acqua. C'è l'acqua. Ci cambiano. Non si può entrare qui. In questo senso si vede di spezzare la zona. Ok, qua c'è un'altra cosa. Un braccialetto, uno di là deve averlo lasciato. Perdonate, ma che altro c'è qua? Che ho fatto? Ah, sono gli alberi che fanno tutto sto casino, ok. Mi sono perso qualcosa. Ok, ci sono delle tracce. Ok, non me le facevo esaminare prima. È gente semplice che sono roba popola e non li uccido allora va bene. Segui il lubricant. Andiamo, bimbo. Inferno, bimbo. Grazie. 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 Ok. Perché non ho la spada? Grazie. 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 Ok. Grazie. che abbiamo qui? ossa. Le ossa sono... ti do un po'. La selda... sticata. Questi tempi non mangiano di tutto. Postole. Grossi artigli. Non è stato nello che riesco a lasciare questi segni. Zampe. Manca un ferro di cavallo o una coincidenza di questo animale che l'ho preso? Testa mozzata di netto. Ci vuole una forza incredibile. Ricapitoliamo. Devono essere attaccati da una bestia, potremmo mettere gli accolti di sorpresa. Spero che siano fuggite. Sì. Andiamo. Perchè di notte ho questa... Ma la primissima... sì questo qua... io non ho mai giocato nemmeno ai primi. Ho visto come si giocava qui ma... cioè... com'era la storia bene o male da... su Twitch. Ma l'ho visto tempo fa. Non ho visto l'inizio, non ho visto niente. E a me The Witcher piace come... come storia, come ambiente e tutto quanto. Allora... Non c'è nessuna signora, sicuro neanche di passaggio, la famiglia è di statura media, sulla ventina la madre è magra e la valentina, è arrivata di notte no mamma? Ragazzi hanno visto nessuna signora, è solo un bambino, in tal caso voglio sentire il suo sogno, che hai visto e ti è venuto qui? Vabbè si, dov'è la figlia del barone? Il tuo figlio ha detto che è una passantra, dovete ripingere ancora, mi spesso in mano, perché non lo so, sto cercando di amare sua madre, è a casa di mio fratello, ma la signora Anna, quella è un'altra storia, anche se a qualsiasi luogo è migliore del nido del codo del barone, perché? Perché lui picchia il signore. Picchia la signora Anna, intendo lo sanno tutti, ma nessuno alza un dito per fermarla. Cos'è stata della madre di Tamara? E' andata così, aspettava la vecchia fumigatore con i cavalli, faceva un freddo cane, ed era buio, non vedevamo un pago da me. Dormine avevamo mai attraverso il cielo, ma non ho ancora ragionato, è iniziato, ma poi sono arrivati e siamo andati verso il fiume. All'improvviso è arrivato nulla a un forte vento, credo che il cielo abbia staccato la testa, e quei dannati uccelli in interi stormi che strucciano nel bosco e facevano un baccano per far sanguinare le orecchie. La signora Anna ha urlato piangendo, piegato in due, Tamara si è inginocchiata e l'ha presa il braccio, allora li ho visti, terribili segni sulle sue mani. Niente. Guardami di questi sei marchetti, sono belle, come marchi a fuoco, sulle sue palmi all'interno. A fuoco, come marchi per bestia, si, anche con delle crosse erano calde e vive come se fosse di fuoco puro. E poi cosa si è successo? D'accordo. Si è fatto ancora appoglito come alcuno avessi scoperto le stelle. Ma le progressi gris si sono azzittiti e la foresta è giunto un ruggito. Oddio. Ho iniziato a sorire freddo prima che potessi prendere fiatto, dal bosco ed è saltato fuori una bestia, cresso come un fenile, come un corno e due tizioni ardenti al posto degli occhi. Credo di essere spacciato la bestia e attaccato il cavallo della signorina, la mozzando via la testa, poi l'ha portato al bosco. I nostri cavalli, come quello della signorata Marsi, sono spaventati e sono costruiti al galoppo. E' l'unico motivo per cui la signorina voleva tornare a cercare la madre, ma la mamma l'ha pregata di rinchéno non ha rinunciato. Mi diceva che sarei soltanto morta da fuori. Perché li ha aiutati? Ho rischiato molto. Eri un debito con la signora Tamara. Tre le ore fa mia figlia si è ammalata. Pensavo che non ce l'avrebbe fatta. Tamara l'ha saputa e ci ha portato cibo e balsami. Siamo molto poveri. Ha salvato mio figlio. Non c'è con dubbio. Guarda, non l'avrei mai aiutata. Ma mia moglie mi ha detto che è una guerriera. Viene malvagia. Dobbiamo sfruttare il bene. Il bene è giusto. Non riesco a leggere per cautare. Occhio, non riesco a segniare. Ho pregata un'amore un'amore. Ciascuno che si tracono le misure sui. Il bene è volto. Ragazzi con la giusta. Chi ha avuto sì. Si sarebbe abbastanza senza l'acqua. Io faccio lo che cosa sia per vedere che sia una persona. Questa è un po' più. Trocini del giro. Grazie a te, grazie a te.